adevinta è una multinazionale leader nel settore marketplace a livello globale quotata alla borsa di oslo sull'italia abbiamo due brand molto importanti vale a dire subito e infojobs tra i nostri valori aziendali vi sono il win together lose together vale a dire one team perché i risultati si raggiungono tutti insieme e le difficoltà si affrontano tutti insieme act for max impact vale a dire dare il massimo per il raggiungimento del risultato use your voice in quanto tutti i collaboratori contano in tutte le voci contano experiment bravely in quanto uscire dalla propria comfort zone sperimentare e trovare nuove risoluzioni a un possibile problema permettono sicuramente il miglioramento della prestazione lavorativa e della qualità della tua sua riteniamo che il well being aziendale sia fondamentale per costruire e mantenere un ambiente di lavoro sano collaborativo inclusivo la partnership con fit prime nasce due anni fa per applicare a livello aziendale la massima latina men sana incorpore sano vale a dire perfezionare il benessere psicofisico dei nostri collaboratori per il raggiungimento e il mantenimento di quel work life balance che non è e non deve essere utopia p prime ci ha permesso lo svolgimento di un'attività fisica che definirei taylor made in quanto ogni collaboratore può scegliere l'attività fisica la tipologia di attività fisica che preferisce sono infatti possibili la partecipazione a delle classi da remoto sincrone oppure l'abbonamento al centro sportivo che il collaboratore preferisce a ciò si aggiunge il valore aggiunto dato da eventi organizzati all'interno dell'azienda per permettere non solo lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche il consolidamento dello spirito di team e il rafforzamento delle relazioni ad oggi possiamo dire che stiamo portando avanti degli ottimi risultati dal momento che i livelli di engagement secondo l'ultima survey sono aumentati che continueremo ovviamente a lavorare in tal senso per garantire ai nostri collaboratori sempre di livelli ottimali e sempre migliori di engagement e benessere psicofisico personalmente consiglierei a un rappresentante wellness di investire nel benessere psicofisico in quanto un collaboratore che ha degli ottimi livelli di engagement è sicuramente un collaboratore che lavora meglio e soprattutto un collaboratore maggiormente legato all'azienda ciò comporta una maggiore attractiveness nell'azienda sia internamente che esternamente che si traduce in una retention indiretta e una attraction dall'esterno indiretta e proattiva di nuovi collaboratori prendendo l'azienda più competitiva sul mercato del lavoro l'investimento nel benessere aziendale è ancora più importante se evitiamo tutti i cambiamenti del mercato del lavoro dopo la pandemia del 2020 di conseguenza tutti i lavoratori hanno avuto un reshuffle delle priorità andando a sottolineare di più quanto è importante il vivere bene l'ambiente aziendale, quanto è importante il benessere all'interno dell'azienda e di conseguenza il benessere psicofisico.